Tragedia in una chiesa di Udine, una struttura in marmo cade e colpisce una bimba. Fontanini scomoda a Fedriga per il rimpasto in giunta, l'opposizione triste spettacolo per una maggioranza che navica a vista. C'è chi prova a scherzarci su e chi è molto arrabbiato. I commercianti di Via Mercato Vecchio rassegnati a un Natale deficitario, il cantiere non chiuderà in tempo per lo shopping delle fette. Cresce il numero di donne che chiedono aiuto allo sportello Zero Tolerance a Udine, Trieste, la prima provincia in Italia per numero di denunce. Gotti dovrà fare a meno oppure di Pussetto e degli squalificati Becao e Okaka. A tutti voi buonasera, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale. Siamo in compagnia di Nicola Angeli. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti, buonasera Giorgia. Siamo anche scossi da una notizia che è arrivata in redazione davvero pochissimi minuti fa. Si tratterebbe di una tragedia avvenuta in una chiesa di Udine. Ora nel corso di questo telegiornale cercheremo di darvi maggiori dettagli. Le prime cose che sappiamo, Nicola, quali sono? Le prime cose che sappiamo è che una bambina è stata travolta da una struttura in marmo, da un pezzo di marmo. C'è chi dice un'acqua santiera all'interno della chiesa dell'educandato statale Uccellis, nella zona di Via Gemona, come i tanti cittadini sapranno. Abbiamo qui una foto, un'immagine della chiesa sul nostro desk ed è apparsa subito in grave condizioni, è stata portata in ospedale. Ma per lei non c'è stato nulla da fare. La bambina è molto piccola, avrebbe 7 anni. Ovviamente maggiori approfondimenti nelle nostre successive edizioni dei telegiornali. L'episodio, l'evento si è verificato attorno alle 18. E allora cercheremo ovviamente di approfondire con i nostri inviati quello che è successo e di darvi ovviamente tutti i dettagli. L'area in questo momento sarebbe sotto sequestro e si tratterebbe di una bambina italiana residente a Udine. Tra poco quindi per gli aggiornamenti di questa brutta notizia davvero dell'ultima ora, perché il fatto sarebbe successo nel taldo pomeriggio, più o meno un'ora fa, intorno alle 18. Andiamo con le altre notizie e parliamo di quello che succede in Comune a Udine, rimpasto di giunta ufficializzato da Fontanini. I nomi dei due assessori che entreranno nell'esecutivo saranno annunciati martedì, anche se i nomi circolano da tempo, sono quelli di Giulia Manzan e Antonio Falcone. Oggi si è svolta a Palazzo d'Aronco una riunione tra le forze di maggioranza, la presenza anche del governatore Fedriga. Sentiamo. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per l'ufficialità del rimpasto di giunta in Comune a Udine. A Palazzo d'Aronco si è svolta la riunione tra i rappresentanti delle forze politiche che sostengono la maggioranza, alla presenza anche del governatore Massimiliano Fedriga. Ma i nomi dei due nuovi assessori che entreranno nella squadra di Fontanini saranno resi noti martedì. Da parte sua il sindaco non si sbilancia, ma i nomi che girano insistentemente sono quelli di Giulia Manzan, di Autonomia Responsabile, e di Antonio Falcone, di Progetto FWG, al posto degli uscenti Paolo Pizzocaro e Daniela Perissutti. Ci siamo confrontati ancora sui programmi, abbiamo parlato di questa città che forse non riusciamo a trasmettere le cose positive che siamo riusciti a fare in questo anno e mezzo di amministrazione, però i risultati che ci vengono riconosciuti da università, da organi di stampa, da riviste internazionali che dicono che Udine è una città che sta migliorando la qualità della vita, proiettata anche per quanto riguarda ad esempio la questione ambientale, in scelte innovative che sono a favore dell'ambiente per migliorare ancora la qualità della vita. Ci sarà rimpasto di giunta? Sì, ci sarà questo mini rimpasto con due nuovi assessori e anche con alcune rivisitazioni delle deleghe che passeranno da qualche assessore a un altro. Una cosa che era in itiner già da un po' di tempo e che adesso abbiamo deciso con la prossima giunta che si terrà martedì della prossima settimana di definire con questi contenuti. Le reazioni da parte dell'opposizione non sono morbide, Nicola. Esatto, Giorgia. Il primo intervento che segnaliamo è quello di Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine. Siamo sul suo profilo Facebook. Scusate, parla di Visitor, se fa un po' riferimento a serie TV degli anni Ottanta. Il neologismo, insomma, il termine venne richiamato ai tempi da Sergio Cecotti. Fu lui l'inventore ai tempi della presidenza di Alessandra Guerra, della giunta regionale. In questo caso invece è la Lega, sempre protagonista, con il sindaco Pietro Fontanini che chiama Massimiliano Fedriga. L'avete visto, poi c'era anche l'assessore alle attività produttive, Sergio Bini, come avete visto nel servizio, perché c'è una longa manus di progetto FFG in questo rimpasto di giunta nel vertice con i Visitors, scrive Bertossi, non si è parlato di nessun problema concreto di Udine, del suo ruolo e dell'attenzione che la regione dovrebbe avere nei suoi confronti di larghe fasce di popolazione in rivolta per i pasticci su porta a porta, sul tema del forno crematorio, sui flop di Via Mercato Vecchio e degli Europei Under 21. Insomma, nulla di questo, secondo Enrico Bertossi, è stato trattato, ma si è discusso solamente di poltrone. Sulla vicenda è intervenuto anche Alessandro Venanzi, che è capogruppo del Partito Democratico, il maggior partito di opposizione in consiglio comunale. Un sindaco, dice Venanzi, dovrebbe parlare con il presidente della regione sulle priorità della città e del territorio. Invece Fontanini chiede aiuto ai big regionali per spartire poltrone e tenere in piedi una maggioranza rassegnata e senza idee, che dimostra quotidianamente di navigare a vista. Continuiamo con le problematiche e i temi caldi che riguardano la città di Udine. Poi tra poco avremo degli aggiornamenti per quanto riguarda la notizia di apertura, ovvero la morte di una bambina in una chiesa di Udine avvenuta questa sera. Dettagli che ci stanno arrivando in questi minuti. Andiamo, dicevo, prima ad approfondire uno dei temi caldi per quanto riguarda Udine e ovviamente mercato vecchio. Perché? Perché dicembre è dietro l'angolo e i commercianti di quella via centralissima sono fortemente preoccupati. Le piogge degli ultimi giorni hanno rallentato ulteriormente i lavori mettendo a rischio il mese più importante dell'anno sul fronte degli affari. Sentiamo. Basta guardare, è veramente la tela di Arianna, no? Fanno i buchi, ritornano a fare i buchi. Sì, la preoccupazione c'è e è anche molto seria. No, non finiranno per Natale. È inutile che ce la raccontino. È stato detto che finiranno in tempo ma c'è un po' di preoccupazione. Quale tempo? Di quale anno? Se mi dice del 2021 sì, ma del 2019 no. Matematicamente. Ormai siamo pratici, via Quilleia. L'esperienza che abbiamo ci dice tutto. Manca poco più di un mese a Natale e la preoccupazione tra i commercianti di via Mercato Vecchio per riprotrarsi del cantiere di rifacimento della strada cresce. È vero che la posa della pietra piasantina è cominciata, ma il maltempo degli ultimi giorni ha ritardato un cronoprogramma già di per sé non molto incoraggiante. Il timore è che il mese di dicembre, clu per gli affari, negozi ed esercizi pubblici debbano convivere con i lavori, con tutte le inevitabili conseguenze. È tanto tempo che lavorano e non lavorano sempre abbastanza, ovviamente, secondo noi. e siamo preoccupati perché il Natale è un momento particolare dove puoi risolvere anche delle problematiche economiche della tua azienda. Quindi i commercianti di via Mercato Vecchio sono veramente ancora preoccupati. L'ultimo incontro con il sindaco e il vice sindaco ci avevano detto che dal 1 al 4 dicembre avevano chiuso fino all'altezza di via Merceria, esattamente. Però è piovuto due o tre giorni, quindi ritarderanno sicuramente due o tre giorni. Io ho chiesto e sperato e ho tornato a chiedere che invece arrivino al progetto iniziale che era quello del primo lotto che doveva finire all'altezza della cassa di risparmio. E spero che arrivino veramente fino a quel punto. Speriamo bene che facciano qualcosa perché veramente abbiamo un calo dal 50 al 30% ed è tantissimo, una problematica economica piccola come le nostre. Lei e i suoi colleghi cosa intendete fare? Qualche attività particolare a dicembre per attirare la clientela? Sì, ci stiamo pensando e sicuramente troveremo qualcosa, ma più di quello che facciamo ogni anno sicuramente non possiamo fare. Sarà una promozione della via, faremo qualcosa di attrattivo ma ancora non abbiamo ben definito perché dipende sempre se il cantiere è aperto o chiuso. Torniamo sulla notizia drammatica che vi abbiamo dato in apertura perché stanno arrivando minuto dopo minuto i dettagli sulla morte di una bimba di 7 anni avvenuta nella chiesa dell'Istituto Uccellis. Cosa sappiamo di più Nicola? Sappiamo dalle nostre fonti che la bambina si sarebbe appesa all'acqua santiera che l'ha successivamente travolta. In quel momento si stava svolgendo l'ora di religione, di catechismo per i bambini dell'Istituto Uccellis. L'acqua santiera ha travolto la bambina che è rimasta ferita in maniera profonda, letale come vi abbiamo raccontato. La chiesa è quella dell'Istituto Uccellis, la chiesa di Santa Chiara che in tanti conosceranno, si può vedere anche da via Gemona dietro il laghetto. Il nostro Davide Zanirato tra l'altro si sta recando sul posto, quindi presto avremo anche il modo di avere ulteriori testimonianze da lì, dal luogo in cui è avvenuta questa tragedia. Ricordiamo, intorno alle 18 di questa sera, davvero poco tempo fa. Nel frattempo andiamo avanti, andiamo avanti con le notizie di Cronaca, un riassunto di quello che è successo in regione nelle flash news a cure di Davide Zanirato. Gli aveva offerto accoglienza in casa, ma l'ospite se ne ha approfittato e gli ha sottratto più volte il banco, ma a partire dal mese di settembre. Complessivamente 32 i prelievi effettuati per un totale di 8.000 euro. Il malcapitato, un anziano di San Pietro a Natisone, scoperto l'ammanco sul conto, si è rivolto ai carabinieri, che sono rapidamente risalite il responsabile, marocchino di 46 anni, e lo hanno arrestato. Una donna di 65 anni, originaria della Repubblica Ceca, ma residente in città, è stata denunciata dai carabinieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Aveva affittato un appartamento ad un trans brasiliano, il quale svolgeva al suo interno attività di meretricio. I due hanno avuto un'accesa discussione e sono intervenuti i carabinieri, che hanno stroncato gli appuntamenti amorosi, denunciando anche il trans, già colpito da foglio di via. Arrestato a Codroipo un 29enne di origine albanese, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in regime di domiciliari, emesso dal Tribunale di Udine. L'uomo è ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata, di un anno più grande, verificatisi tra il gennaio 2018 e l'ottobre 2019. Traffica di furti ieri sera a Fontana Fredda, sono quattro i colpi denunciati ai carabinieri, che hanno avviato le indagini. Sui quattro colpi tentati in altrettante abitazioni, solo l'ultimo ha fruttato un bottino da 4.000 euro, tra monili e contanti, dopo aver sfondato il vetro della porta d'ingresso dell'abitazione. Indagano i militari della compagnia di Sacile. Durante una perquisizione in casa, nell'ambito di un procedimento per maltrattamenti in famiglia, i carabinieri di Sacile hanno scoperto in terrazza una pianta di marijuana alta un metro e mezzo. Il proprietario, un trentenne sacilese, ha tentato di giustificarsi dicendo che si trattava di una pianta ornamentale, destinata al clorovivaismo. Ma a seguito di successive analisi, verificato un principio attivo puro, pari all'1,3%, il trentenne è stato denunciato per coltivazione di droga. Altre notizie di Cronaca di oggi? Allora, un'altra notizia di Cronaca di oggi è rappresentata dallo sfregio del murales che Simone Mestroni, l'autore di Città della Poesia, l'inventore di questo metodo, insomma, per ravvivare o dare maggiore dignità sia ai quartieri periferici che al centro città, è stato sporcato, è stato vandalizzato, vedete con del colore, sul posto sono stati trovati dei residui di sacchetti di plastica che probabilmente sono stati riempiti, anzi sicuramente con il colore. Poi la scritta contro Simone Mestroni che ha un passato da militante di estrema destra e qualcuno ha scritto, insomma, picchiatore fascista per insultare l'artista. Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che ha chiesto categoricamente che gli autori vengano individuati e che siano costretti a pagare il danno che hanno fatto manifestando solidarietà e offrendo una spalla in gergo all'artista per quelle che saranno le sue iniziative prossime in città. No ai muri e ai dazi occorre respingere il protezionismo. La Cina spinge per la via della seta e da Trieste incalza l'Italia finché si acceleri con gli scambi commerciali. Federica condivide ma mette i paletti, dice, i rapporti siano biunivoci. Per mantenere lo slancio dell'economia dobbiamo distruggere i muri e non costruirli. Dobbiamo mantenere la cooperazione e respingere il protezionismo. Parola di Li Hua Hua, ambasciatore della Cina in Italia, intervenendo al Belt and Road Summit di Trieste, durante il quale si è analizzato gli scenari futuri degli scambi commerciali lungo la via della seta. La globalizzazione, ha spiegato il cinese, ha cambiato il mondo negli ultimi 30 anni. La via della seta si pone come obiettivo di collegare il mondo con enormi ritorni economici per la produzione. Servono però passi concreti. Fino ad ora sono stati creati 367.000 posti di lavoro. L'obiettivo è di ridurre del 2,5% il tempo dei trasporti marittimi, con conseguente riduzione dei costi del 2,2%. La via della seta non è solo logistica, ma sviluppo reciproco, che deve essere percepito dalla popolazione con un miglioramento della qualità della vita e del lavoro, ha replicato il governatore Massimiliano Fedriga, mettendo in guardia sul rischio dazzi. Quello è che tutti i dazzi sono concordati con il WTO, e quindi è chiaro che noi dobbiamo sempre guardare nei rapporti tra Stati Uniti, Cina, Europa, Cina, in una logica geopolitica su cui purtroppo protagonisti lo possiamo essere in modo abbastanza limitato. Tengo a dire però che dazzi con la Cina, o i dazzi penso con gli Stati Uniti messi rispetto a una reazione sugli aiuti pubblici avuti da Airbus, voluti da Francia e Germania, bisogna cercare di far sì che le regole diventino veramente oggettive e condivise, perché altrimenti il rischio è che ognuno fa il suo piccolo interesse e non c'è invece una regola complessiva che possa tutelare tutti. Cosa dice a chi manifesta ancora paura nei confronti dell'arrivo dei cinesi? Ma secondo me le precauzioni sono legittime, anzi le condivido, però le precauzioni non ci devono fare fermare dell'opportunità, devono farci mettere delle regole, garantire delle tutele che possano superare queste preoccupazioni che giustamente ci sono, ma devono trovare risposta propositiva e non negativa. Abbiamo ovviamente un occhio sempre attento alle notizie che ci arrivano dalla chiesa dell'Istituto Uccellis, dove come vi abbiamo raccontato in apertura è morta nel tardo pomeriggio di oggi una bambina di 7 anni travolta da un'acqua santiera. Tra poco saremo lì con David Zanirato a farci raccontare il tutto, capite che è anche difficile andare avanti con gli altri temi del nostro telegiornale di fronte a questa tragedia. Però continuiamo e continuiamo, Nicola, parlando del movimento delle sardine che sta proponendo nuovi protagonisti. Sì, ieri vi abbiamo dato la notizia di questa nascita, anche in Friuli Venezia Giulia, del movimento delle sardine. L'autrice, la creatrice di questo gruppo Facebook, finora non c'è stato nulla di concreto dal punto di vista delle manifestazioni. C'è l'idea di organizzarne una a Monfalcone, in un sondaggio pubblicato sul gruppo è la città più votata, perché viene identificata come un po' la Bologna delle Friuli Venezia Giulia, la Roccaforte Rossa, caduta nelle mani del centro-destra. Oggi c'è stato un video pubblicato da Norina Tiusi, che è l'autrice di questo gruppo Facebook, dove si dichiara abbastanza lungo, insomma, vi facciamo vedere l'immagine, si dichiara stupita del successo di questa iniziativa, però, lo ripetiamo, per il momento è un successo solo virtuale, però sappiamo anche benissimo che sul virtuale, sul web, navigano anche gli insulti, oltre alle sardine, e siccome Monfalcone è chiamata in causa come città, dove ci potrebbe essere la prima manifestazione del movimento, che oggi ha pubblicato anche a livello nazionale il suo manifesto, abbiamo Anna Cisin che attacca subito, non aspetta la manifestazione e fa vedere che un utente del gruppo ha pubblicato un'immagine, insomma, un meme poco simpatico con un disabile lanciato in carrozzina, giù dal burrone per il fatto di votare Lega, insomma, sono cose che si vedono troppo spesso sul web e quindi ovviamente affonda il colpo su questa mancanza di netiquette, chiamiamola così, usiamo un eufemismo, Giorgia, però insomma... Beh, diciamo che i toni di queste polemiche sui social sono veramente inaccettabili. Sono miseri, meschini, esatto. Di una bassezza a volte veramente inaccettabile. Ve ne diamo notizia perché rientra nel ruolo, però ne faremo volentieri a meno. Parliamo ora del tema della violenza sulle donne. A Udine il Comune ha rinnovato un protocollo d'intesa con l'azienda sanitaria e la firma è stata l'occasione per fare un pochino il punto della situazione. Vediamo. Italiane, di età compresa tra i 30 e i 49 anni, con un lavoro ma non indipendenti. Questo l'identikit delle donne che si rivolgono allo sportello Zero Tolerance di Udine per chiedere aiuto dopo aver subito violenza. Nei primi nove mesi del 2019 sono stati registrati 48 nuovi contatti, a fronte di un totale di 157. In poco meno dell'80% dei casi si tratta di violenze di tipo fisico, psicologico ed economico combinate insieme, i più delle volte all'interno delle mura domestiche, anche in presenza dei figli. Le denunce di maltrattamenti risultano quindi in aumento, a conferma di come ci sia una maggior presa di coscienza sull'argomento. E secondo un rapporto del Censis, Trieste risulta la prima provincia in Italia per numero di violenze sessuali denunciate. È un accordo molto importante che è frutto di lavoro di anni, è un accordo che si rinnova ed è un accordo che sancisce ancora con più puntualità i rapporti che ci devono essere tra questo sportello e l'azienda sanitaria, ma in particolare gli operatori del sistema sanitario. Penso ad esempio agli operatori del pronto soccorso. Dai dati raccolti dallo sportello emerge che le denunce di violenza sono aumentate. Sì, le denunce ma soprattutto gli accessi allo sportello Zero Tolerance, accessi che avvengono da parte di donne, naturalmente donne che arrivano sia in maniera autonoma a questo sportello attraverso un primo contatto telefonico, ma che arrivano anche in quanto viene suggerito loro di rivolgersi a questo sportello dai servizi sociali, dal pronto soccorso e da altre realtà. Per cui è una testimonianza che questa convenzione è una convenzione forte che funziona. Parliamo di scoperte, osservazioni importanti che riguardano il mondo della scienza, Nicola. Sì, e prendiamo questa notizia da Wired, che è un magazine online specializzato in queste notizie. Sono stati osservati i fotoni più energetici mai rilasciati da un gamma ray burst, lampi gamma, la cui origine non è ancora nota con certezza. Ecco cosa sappiamo, ci racconta il giornalista, i ray burst più potenti di sempre. Ora non ho questa competenza così profonda sui ray burst, però quello che interessa a noi è che nella ricerca, che è considerata rivoluzionaria, la scoperta è considerata rivoluzionaria per l'astrofisica, hanno partecipato anche dei dottorandi, è un'equipe di ricerca dell'Università di Udine e dell'Università di Trieste. Quelli dell'Università di Udine sono coordinati dalla professoressa Delotto. E a proposito di scienze e di università che fanno fatica, il paradosso, un paio di giorni fa c'era il Presidente della Repubblica Mattarella a celebrare la grandezza della sissa di Trieste e oggi, lo prendiamo dall'Ansa, c'è la notizia di un taglio ai fondi per 500 mila euro all'Istituto Universitario Triestino. Per il Presidente Massimiliano Fedriga è un'azione che odora di attacco politico. Udine vuole entrare a pieno titolo tra le mete di turismo religiose. È stato presentato stamattina a Palazzo D'Aronco il progetto Look Up che mira a promuovere e valorizzare i luoghi di fede e spiritualità presenti sul territorio come spazi nei quali riscoprire storia e tradizioni. Ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alla cultura Cigolotta. Il progetto Look Up, di cosa si tratta? Si tratta di inserire Udine all'interno dei percorsi di turismo religioso. La nostra città ha deciso di partecipare, assieme agli altri parti, la congregazione delle Ossoline di Vicenza e due partene austriaci di Lienz, nella regione dell'Ostiro del Tirolo orientale, a questo bando all'interno del programma Interreg Italia-Austria. Abbiamo unito le forze, abbiamo presentato il nostro progetto e all'interno di questo progetto che è stato accolto e finanziato dall'Interreg Italia-Austria ci sono 356 mila euro di investimento che spenderemo qui nella nostra città per tutta una serie di attività. La valorizzazione di tre importanti siti religiosi, che sono la Basilica delle Grazie, la Chiesa di Santa Maria in Castello e la Chiesa di San Francesco. Ma non solo, vogliamo inserire all'interno di questo percorso cittadino anche altre opportunità che la città offre per tirare questi turisti, perché abbiamo da valorizzare il Museo Diocesano, il Duomo e poi altri edifici e luoghi religiosi che possono far sì che Udine possa giocare questa carta del turismo religioso collegandola sia lungo l'asse nord-sud, per intenderci Aquileia, e poi Zulio, Monte Croce e poi verso nord, sia est-ovest, ma pensiamo anche ad altri luoghi importantissimi come il Santuario del Monte Lussari, Castelmonte. Quindi ecco, far sì che Udine, assieme a tutti questi poli della nostra regione, si inserisca in maniera attiva. Ci fermiamo per un piccolo break, torniamo tra poco. Eccoci qua, di nuovo insieme, cominciamo questa seconda parte con le notizie sportive, pronti poi a darvi degli aggiornamenti per quanto riguarda invece la tragedia di cui vi abbiamo parlato nella prima parte del nostro notiziario, purtroppo la morte di una bimba di sette anni. Procediamo intanto con lo sport e andiamo a fare così il resoconto di quella che è stata la giornata di lavoro dell'udinese di mister Gotti, che recupera tutti i nazionali assente dalla seduta, Fufanari è entrato solo in giornata e Sema, che viene valutato giorno dopo giorno in vista della gara contro la Stampe. Il servizio. Nella marcia d'avvicinamento alla sfida di Marassi di domenica contro la Sampdoria, mister Luca Gotti nel giovedì pomeriggio ha potuto svolgere il primo allenamento tecnico-tattico vero e proprio, avendo quasi recuperato la totalità di tutti i dieci giocatori che sono stati in giro per il mondo nelle ultime due settimane impegnati con le rispettive nazionali. Si sono regolarmente rivisti sui campi del Bruseschi, infatti, Rodrigo De Paul, Juan Musso, Iliane Storoschi, Mato, Iaialo e Jens Struger-Larsen. Mentre ha svolto un programma personalizzato che è insieme a uscito un po' acciaccato all'ultimo impegno della Svezia contro le isole Ferroer. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno e ora dopo ora in vista della sfida di Marassi. Continua a migliorare invece la condizione generale di Nacio Pussetto, che sta smaltendo la distorsione alla caviglia destra patita nella settimana che portava alla gara contro la SPAL. Anche quest'oggi l'argentino ha spinto forte sull'acceleratore nel lavoro individuale svolto con il pallone, ma addirittura, prima di dedicarsi al suo percorso individuale, ha svolto una prima parte della seduta con la squadra, svolgendo tutta la parte atletica e la fase di riscaldamento in gruppo e compiendo anche alcuni circuiti che prevedevano una piccola parte di finalizzazione dovendo far centro nelle porticine piccole. Un chiaro segnale che il peggio è alle spalle e le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno. Anche per lui la valutazione sarà quotidiana in vista della sfida di Marassi. Nessun problema fisico particolare, ma percorso personalizzato ancora anche per Rodrigo Becao, che non ha lavorato in gruppo. Approfittando della squalifica che lo estrometterà dalla sfida contro i Blucecchiati, infatti il brasiliano sarà poi tirato a lucido per la successiva trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. Intanto nel pomeriggio in campo Mr. Gotti si è concentrato su esercitazioni incentrate sul possesso palla e naturalmente anche sulle prime prove tecnico-tattiche. Domani la squadra si ritroverà in campo al mattino per entrare nel rush finale della preparazione, perché contro la Sampdoria sarà una partita da interpretare nel modo giusto per approcciare al meglio ad un dicembre difficile con tante sfide contro le top della classe. Interrompiamo le notizie sportive perché andiamo subito da David Zanirato per farci raccontare quello che è successo nel tardo pomeriggio di oggi. David. Sì, buonasera a te Giorgia e ai nostri telespettatori. Ci troviamo all'esterno dell'educandato Uccellis, dove come avete raccontato prima si è consumata questa tragedia nel pomeriggio di oggi attorno alle 17. Dalle primissime informazioni che abbiamo raccolto una bimba di 7 anni con la sua classe in visita all'interno della chiesa, proprio qui all'educandato Uccellis. si sarebbe appesa per gioco su un'acqua santiera che avrebbe ceduto travolgendola sullo sterno e poi c'è stata la corsa disperata in ospedale, sono stati chiamati i soccorsi sanitari del 118. La bimba non ce l'avrebbe fatta proprio in ospedale, nonostante disperati i tentativi dei sanitari, naturalmente scossi incredoli i compagni di classe, gli insegnanti, tutti i vertici dell'educandato Uccellis che sono qui ancora all'interno assieme ai carabinieri della compagnia di Udine per provare a ricostruire la dinamica dell'accaduto. È davvero una tragedia incredibile, queste le notizie che abbiamo raccolto sino ad ora, come dicevamo all'interno ci sono ancora i militari. Per tutte le indagini e le pratiche del caso è una notizia davvero terribile, il collegamento si è interrotto. Ringraziamo comunque David Zanirato per averci raccontato quello che sta succedendo. Con questa notizia chiudiamo qui. Ovviamente vi diamo l'appuntamento alla prossima edizione del nostro telegiornale alle 22.30, edizione live, in cui daremo ampio spazio a quello che è successo, alla tragedia accaduta nel tardo pomeriggio di oggi a Udine dove è morta una bambina facendo religione, appendendosi all'acquastantiera di una chiesa, un'acquastantiera che poi l'ha travolta e l'ha colpita in maniera fatale. Grazie Nicolangeli. Grazie Giorgia. E a voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.